Tornarebbe invece ad essere la banca della piccola impresa, la banca delle famiglie. Penso che sarebbero dei grandissimi responsabili. Occorre che dalle forze politiche e dai segretari di partita arrivi un messaggio chiaro a Draghi che deve rimanere Presidente del Consiglio fino al 2023, possibilmente oltre, perché se abbiamo una stagione in cui si può cambiare l'Italia è questa, ma l'unico che ha l'autorevolezza per comporre delle forze politiche che normalmente si occupano di tutto tranne che amministrare è Mario Draghi.